Ragazze, ragazzi, signore, signori, buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, come state? Mi auguro bene, come avete trascosso il ferragosto, come avete passato queste festività, mi viene da dire natalizie, magari, non so perché, ma io piuttosto che questo caldo preferisco il freddo, sono sincero, il caldo se proprio lo devo sopportare, sopportare, tra virgolette preferirei sopportarlo al mare o in montagna, ma io adoro il mare. Allora, perché questo videuzzo? Per ricordarvi che, allora, sapete che mi incasino ogni tanto, non faccio tagli, eccetera, questo sono io come nelle dirette, insomma, ok? Va bene, va bene, lasciamo perdere, facciamo un po' di intrattenimento e spero possiate godere, tra virgolette, della mia voce, della mia voce, va bene? Grazie, 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 allora, questo video è per ricordarvi, innanzitutto per salutare le persone che mi hanno già inviato i mini video. Il tema, il fulcro, scusate, il fulcro di questo video è questo, i videuzzi, i mini video. Ho fatto il... Si scherza? Tutto il regolamento lo trovate qui, qua, insomma, nelle schede, se riesco a farlo passare nel video che avevo girato qualche tempo fa, a inizio agosto, se non ricordo male, fine luglio, inizio agosto, non mi ricordo, vabbè, comunque il video è lì, da vedere nelle schede, comunque ve lo lascio qua sotto in descrizione, se riesco anche alla fine di questo video, non so, vediamo un po' quello che riesco a fare, perché adesso YouTube è cambiato, ci sono un po' di casini, eccetera, comunque, andate a vedervi quel video. Il titolo dello stesso è, e ho la memoria corta, ti sponsorizzo, ti pubblicizzo, YouTube, ti sponsorizzo il tuo canale YouTube, una cosa del genere, comunque, perché sto facendo questo video? Ripeto, ringrazio coloro che mi hanno mandato i video, sono tutte ragazze, per il momento, ok? Le saluto, non faccio spoiler, perché poi il video finale montato lo vedrete, penso, i primi di settembre, entro il 10 di settembre, ma, 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 siete ancora in tempo per chi voglia mandare ancora i suoi mini video, sono veramente molto carini, davvero carini, cercate di guardare, questo è un appunto che io vi faccio qua, cercate di guardare, non lo specchietto, praticamente, chi registra con lo smartphone, la fotocamera, eccetera, ha il, come si chiama, il, così, non reclinabile, no? Mi avete capito, ok? Vi faccio un esempio, adesso io mi sto guardando, mi sto guardando riflesso, riflesso, sto guardando lo schermo, lo schermino, sto guardando lo schermino che mi sta a riprendere, mi fieto, praticamente, ok? Posso vedere se sono inquadrato bene, dritto, storto, eccetera, non fate questa cosa, adesso sto guardando in camera, io utilizzo una telecamera, ok? Quindi non guardate lo schermino, guardate in camera quando girate questi video e, se volete, salutatemi, a me fa piacere, qualcuno l'ha fatto, qualcuno no, non importa, d'accordo? Mandate ancora questi video usi, mandateli perché siete ancora in tempo, quindi, andate a vedere quel video, leggete la descrizione qua sotto perché vi lascio proprio il link del video così potete andare a rivedervi quel video, non sto a rispiegarvi tutto, fondamentalmente i mini video è importante che voi me li mandiate tramite WeTransfer e sta funzionando bene la cosa, riesco a scaricarli perfetti, 720, 1080p, va benissimo, non fate i 4K, gli 8K perché tanto non servono, vi si vede bene ugualmente, quindi ripeto, ribadisco, i video mandatemi ancora tranquillamente, non pensateci sopra, però, ma chissà come vengo, siete tutti fantastici, abbiate che abbiate un canale più grande, abbiate un canale più piccolino, non importa, a me fa piacere avervi sul mio canale, va bene? Mi fa piacere, mi commuovete quando mi salutate, qualcuno mi ha detto grazie per l'opportunità, eccetera, eccetera, mi avete veramente commosso, quindi, ripeto, siete ancora in tempo, lasciate 5 secondi da una parte, 5 secondi dall'altra, 6, eccetera, poi parlate, descrivete il vostro canale, che cosa fate, realizzate qualche triggerino all'interno, il video può durare 2-3 minutini, anche 4, non c'è problema, d'accordo? Mettete il vostro canale in sovraimpressione, lo fate scorrere, va bene? Mandate il mini video all'indirizzo e-mail che sta passando adesso in sovraimpressione, l'avevo già detto anche nell'altro video, d'accordo? Mandatelo a questo indirizzo e-mail, tramite WeTransfer, prendete la vostra clip e me la inviate, io scarico e poi monterò il tutto un video dietro l'altro, a me fa solo che piacere, ripeto, il fulcro è questo, siete ancora in tempo, non abbiate timori di come apparire una parete, una sorta di regolamento, io l'avevo già elencata e scritto, questo, chiamiamolo, regolamentino, l'avevo scritto sotto a quel video, ti sponsorizzo, ti pubblicizzo, non mi ricordo come si chiama, comunque il fulcro è quello, spero di essere stato esaustivo, ripeto, ragazzi e ragazzi, siete ancora in tempo per mandare questa clip, a me fa soltanto che piacere, davvero, 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 de corazón, ve lo dico di cuore, vi aspetto, mi raccomando, non abbiate timori, l'ho già detto mille volte prima, l'indirizzo mail lo sapete, mi raccomando, vi aspetto, a me fa tantissimo, tantissimo, tantissimo piacere, ve lo dico di cuore, d'accordo? Spero di vedervi presto, e niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, o a una prossima diretta, un saluto!